Buongiorno da Rossana Prezioso della redazione di Trend Online e benvenuti alla consueto appuntamento con Piazza Affari in tre minuti, l'incontro di metà seduta per fare il punto sulla situazione. La questione greca domina ancora sebbene sembra si trattino ormai degli ultimi scampoli dovuti all'incertezza che ha contraddistinto l'andamento delle trattative finora e che ha lasciato comunque il segno negli investitori. Da più fonti si parla ormai di pochi punti da limare prima di arrivare a un accordo che però rischia di aprire un fronte interno per Alexis Tsipras, premier greco, con molti esponenti di Sirizia, la corrente cui appartiene appunto il primo ministro, che potrebbe lavorare in senso contrario e quindi premere affinché le riforme considerate in realtà un crollo del premier davanti alle richieste delle istituzioni, ma soprattutto appunto le misure prese in sede di trattative, non vengano poi approvate dalla parlamento ellenico. Ad ogni modo le borse sono fiduciose almeno nell'accordo tanto da permettersi il lusso di farsi influenzare da altri fattori, un'influenza negativa purtroppo, come i dati sul lì dice IFO tedesco che a giugno si è attestato a 107,4 punti in calo rispetto ai 108,5 punti di maggio e ancora in calo contro le attese che parlavano di 108 punti. Un dato che fa ritracciare la borsa italiana sulla quale si manifestano anche alcune prese di beneficio dopo il rally dell'euforia dei giorni scorsi. Piazza Fari parte in mattinata con un rialzo frazionale dello 0,4% a 23.661 punti per ritracciare appunto come detto poco prima di mezzogiorno a meno 1,20% con 23.283 punti. Per quanto riguarda lo spread e il rendimento sui decennali si parla per il primo di 134 punti poco prima delle 12 appunto e per il rendimento sui decennali del 2,18%. Le piazze europee arrivano in ordine sparso con cali frazionali per l'indice tedesco a 11.515 punti con un meno 0,23%. Un po' meglio ma soltanto di poco fa la borsa di Parigi con 5.057 punti a più 0,11%. Anche Londra è in territorio positivo a più 0,46% con 6.866 punti. Oggi è la giornata dei bancari potremmo dire soprattutto per le direttive approvate ieri in Consiglio dei Ministri circa la criticità dei conti in sofferenza. In primis la deducibilità ad un anno della svalutazione sui crediti rispetto ai precedenti 5 e le nuove procedure per il recupero dei crediti appunto. Intesa San Paolo e Unicredit sono altri titoli da monitorare grazie all'accusura dell'accordo sempre a proposito di crediti ristrutturati con KKR sui crediti ristrutturati e sempre sulle sofferenze. Argomento che tocca anche Banca MPS per l'accessione di un portafoglio da 1,3 miliardi ma anche un po' tutte le popolari con gli attori potremmo definirli come dire minori agevolati dal momento che a differenza dei big non tutti sono stati in grado di organizzarsi autonomamente per riuscire a smobilitare o comunque a risanare le sofferenze. Al di là dei bancari da segnalare anche Pirelli che ha nominato i suoi advisor in vista dell'OPA Canfi. Per quanto riguarda l'agenda microeconomica da segnalare come detto l'IFO di giugno e alle 14 e 30 la lettura finale del prodotto interno lordo statunitense prodotto interno lordo del primo trimestre. Alle 16 e 30 ancora da segnalare le scorte di petrolio e greggio sempre per quanto riguarda l'economia USA. Bene questa era l'ultima notizia io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a commentare come sempre il video. Intanto vi do appuntamento per domani sempre alla stessa ora. Rossana Prezioso per TrainOnline.com